Comincia da oggi la distribuzione alle farmacie della regione delle prime 500.000 mascherine acquistate dalla regione Campania. Questo primo blocco, come da protocollo con Federpharma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamente alle fasce deboli partendo dall'esenzione ticket, alle persone anziane e a quelle che hanno terminato la quarantena. Dall'inizio della settimana prossima poi le mascherine saranno distribuite a tutte le 1.800 farmacie della Campania e progressivamente ai medici di famiglia e quindi alle famiglie campane prima di renderne obbligatorio l'uso per tutti all'esterno delle abitazioni in vista dell'imminente fase 2. La regione, che ne acquisterà 3 milioni, ha già avuto la disponibilità da poste italiane alla consegna diretta delle mascherine nelle prossime settimane.